Parlamento da Cagliari, lunedì pomeriggio, 40 gradi, ma i leoni, ma i leoni non ci sono mai stati, sempre da solo, sempre fan c***o. Vabbè ragazzi, ci sono 40 gradi all'ombra, ma i leoni non mollano, ecco eh, 64, quanti anni hai pa? 64 con più. 64 anni e non senti la più veloce di me, altro che i ciupiti di Bobo Vieri. Ciao ragazzi. Cavilla Beach, giorno 1 di allenamento, i leoni si allenano e sono pronti a sbranare l'estate. Un saluto leoni! Ciao ragazzi, qui il gioco si sta facendo duro, siamo qui sulla via Francesca, più precisamente in strada di certosa, sono 38 gradi all'ombra, sono le 4 e mezzo di pomeriggio, dopo 8 sere di fiera gastronomia, noi non molliamo, mancano ancora 5 sedate e noi resistiamo. Questo è un messaggio per Marco Borriello, Bobo e Bomber Vieri e Gianluca Vacchi, vi aspettiamo a bere all'osteria della fiera gastronomica, via De Pispi a Siena, se avete bisogno vi veniamo a prendere all'aeroporto a Pisa, ciao ragazzi, enjoy! Ciao a tutti, è domenica 1 agosto, sono a San Martino in strada, sono le ore 19, sto correndo da mezz'ora, ci sono 32 gradi, mi sono accompagnato dai miei leoni. Bobo come, Bobo come, Bobo come!